La morte della giovanissima Chiara Mazza nell'incidente che ieri sera ha funestato l'estate nella parte orientale della nostra provincia è soltanto l'ultimo di una lunga serie. L'incidente è avvenuto ad un incrocio, ha coinvolto la panda nella quale viaggiava la 25enne deceduta e nella quale si trovavano anche i genitori che ora si trovano ricoverati al Giannuzzi di Manduria e al Santissima Annunziata di Taranto. L'impatto tra la panda e una jeep ha provocato il disastro e sulla dinamica e sulle eventuali responsabilità operano le forze dell'ordine. La strada è tristemente nota alle cronache perché è già teatro di molti incidenti. La Manduria-San Pietro in Bevagna, questa volta l'incrocio per Borraco, una strada trafficatissima soprattutto d'estate, qui ci risiamo sul tema della sicurezza stradale e se spesso la nostra attenzione rivolta a quanti si mettono alla guida in stato di ebrezza alcolica o drogati o all'uso smodato di telefonini e altri strumenti di distrazione, oggi ne approfittiamo per parlare dello stato pietoso delle nostre strade provinciali e comunali, senza rotatorie o segnaletica orizzontale e verticale. Ma come fare a tenere una rete stradale efficiente con i pochi mezzi finanziari a disposizione? Pensate alle province per esempio, soltanto quella di Taranto gestisce 1200 km di strade e i fondi sono davvero ridicoli, altro che agevolare il turismo. Per queste motivazioni andrebbe sollecitata dalla politica un piano di interventi straordinari mirati a rendere le nostre strade più sicure, perché una sicurezza stradale più diffusa passa anche e soprattutto dalla responsabilità di tutte le istituzioni pubbliche, che spesso devono fare i conti con leggi scritte male o addirittura riforme, come quella che porta il nome di Del Rio, davvero fallimentari.